Alla luce del suo passato e dei ricoveri a cui è stato sottoposto, forse qualcuno lo avrebbe dovuto aiutare prima di arrivare a questa tragedia. Francesco Maria Vanni Gusmano, legale di Manuele Andreini, con le sue parole ha gettato nuove ombre sull'omicidio di Calbenzano, un passato di eccessi e solitudine, le cui conseguenze potrebbero essere state sottovalutate, almeno secondo l'avvocato che difende il 47enne che nella notte tra giovedì e venerdì scorsi. Ha ucciso la madre assunta di 85 anni. Di fronte agli inquirenti ha aggiunto l'avvocato. Il mio assistito ha detto di essere pentito e di non aver voluto uccidere la madre. Gusmano è pronto a chiedere una perizia psichiatrica. Siamo pur sempre di fronte ad un omicidio, ma è importante capire la mente che ha generato il folle gesto. Purtroppo Andreini, ha detto ancora l'avvocato, al momento è contrario a sottoporsi ad una perizia e senza la sua autorizzazione non potrò farlo. Se non riuscirò a convincerlo, dovrò sperare in un accordo con la Procura. Intanto, questo lunedì alle 9, è in programma l'udienza di convalida a Sollicciano. Non è questa la sede giusta per chiedere una perizia. Spero in un aiuto da parte della Procura, ha concluso il legale, che faccia una richiesta di ufficio per far luce sulle instabilità mentali del mio assistito. Dopo l'udienza di convalida, si terrà la consulenza tecnica. Per effettuare la perizia sul cadavere è stato nominato il dottor Gabrielli, atto che servirà a capire le reali modalità con cui è morta la donna. Andreini ha sostenuto di averla soffocata con un cuscino.